Nuovo video, io sono Angelica Cedrini e oggi ragazzi siamo qui perché volevo fare il giro di tutta la mia camera Ragazzi, questo è un video sul canale di mio papà e adesso i video li farò più spesso, dopo la scuola e spesso Adesso devo vedere un attimo se la telecamera mi accetta perché c'è la batteria scarica e non so se l'ho già detto perché sono in confusione Oggi faremo il giro della mia stanza, vi farò vedere un po' la mia stanza, andiamo Allora iniziamo, qua c'è il calendario della Juve Qua c'è la Playmobil di Ghostbuster E là c'è la mia porta, c'è la porta Qua c'è una cosa della Premier League Poi ragazzi farò anche dei video che aprirò Vedete qua l'album Iniziamo dal letto, questo è il mio letto Là sopra Non ci dorme nessuno perché Allora, il letto a castello Sapete perché c'è? Perché praticamente tanto tempo fa i miei fratelli dormivano qua Poi il mio fratello è andato su in mansaida E qua ha dormito solo il mio fratello dove dormo adesso io E adesso dormo io E tutte e due sono su in mansaida E quando Quando viene mia nonna, lei dorme qua e io dormo su La sua era intanto ci sono Vabbè, qua ci sono tutti i giochi E qua, e ragazzi, ci sono un sacco di pupazzi Passiamo alla scrivania Adesso ho fatto un video qua Era perché io certe volte faccio dei video Qua intanto spegniamo Anzi, mettiamo una musica Così Andiamo su musica E adesso Mettiamo Carote Scusate Allora Andiamo, vediamo Carote Ok Allora Non so se se la sentite Allora, qua c'è la mia scrivania Che è un pelino disordinata Prima ho fatto il video Che ho fatto questo Poi, raga, farò anche Un video con la Nintendo Switch Scrivetevi qua sotto nei commenti Se è quello di Mario Kart O FIFA 19 Poi qua Un angolino La finestra Ah, del banco no Qua due sedie Qua il tappeto della Juventus Ovviamente Qua il mio è Mario Ci sono un sacco di vestiti E qua ci sono tutti dei scaffali Dove metto giochi Libri Qui c'è il mio letto E là ci sono tutti dei libri E là niente Cosa devo Intanto vi voglio far vedere Cosa ho dentro Qua le magliette di calcio Poi abbiamo Qua tutti i pigiami Dei pantaloni E delle calze Poi qua Magliette Magliette Felpe Bene, raga È finita la canzone E ho finito anch'io il video Spero che il video Di adesso vi sia piaciuto Sono contentissima Che ricomincerò a fare i video Perché Io quando facevo i video Non li facevo sempre Non li facevo una volta al mese Neanche E adesso li farò così ogni giorno Quando non avrò tempo Perché sarà calcio Mi sa che non li farò Quindi mi sa che non li farò Forse li farò al martedì Ma non li farò Al lunedì E al mercoledì Perché è lunedì E al venerdì Non il mercoledì E se la partita Ce l'ho Vabbè E al sabato La domenica Li faccio Perché la partita Forse Cioè Perché la partita Ce l'ho di pomeriggio E forse Cioè Il sabato La domenica Non è sicuro Facciamo così Ve lo dico Un po' più Spermite Ve lo dico In modo Un po' più semplice Quando sono libera Quindi ragazzi Spero che il video di oggi Vi sia piaciuto Mettete un bel pollice in su E iscrivetevi al canale Perché è obbligatorio E poi è gratis E commentate Se volete Che nel prossimo video Farò Con Nintendo Switch Con Mario Del Lux O FIFA Quindi mettete un bel pollice in su E iscrivetevi al canale E bella laga